Ciao a tutti ragazzi, in questo video torniamo a parlare delle scarpe da trekking. Dopo che nello scorso video abbiamo parlato dell'altezza della caviglia per le scarpe da trekking, quindi dalle scarpe basse alle scarpe alte, in questo video vediamo le suole da trekking, quindi parliamo di suole morbide, semirigide e rigide. Vedremo nello specifico cosa sono. Detto ciò, avendo fatto questo riassunto, iniziamo subito col video. Iniziamo cercando di capire cosa vuol dire una suola morbida, semirigida o rigida. Per quanto riguarda le suole morbide ho voluto prendervi una scarpa da trekking, perché sono le scarpe che hanno la suola più morbida in assoluto. Per capire se una suola è morbida o no, una cosa che volete fare è andare a piegarla. Come potete vedere questa scarpa praticamente si piega quasi completamente con se stessa e questo vuol dire che la suola è abbastanza morbida, perché se io vado a prendere questo altro scarpone, che ha una suola invece semirigida, questo andrà sia a piegarsi ma con maggiore pressione. Quindi semirigida, perché quelle rigide, cioè quelle rigide proprio volete metterci tutta la forza che volete, ma non le piegherete praticamente mai. Perché esistono questi tre tipi di suole? Esistono perché vanno a soddisfare tre tipi di esigenze diverse, ma sulla più morbida va a soddisfare l'esigenza del trail runner, della persona che vuole avere anche una grande ammortizzazione, vuole avere un bel contatto col terreno. A un trail runner piace anche sentire dove mette i piedi, quindi sentire se sotto un sasso ha una radice e via dicendo. Quindi con una suola molto morbida, soprattutto delle scarpe da trail, se andrete a camminare su un sasso lo sentirete senza fare tanti problemi. E naturalmente una suola morbida aiuta molto anche quella che è la rullata del piede, ovvero nel momento in cui noi andiamo ad appoggiare il tallone, camminiamo, a questo punto arriviamo all'avampiede, l'avampiede si va a flettere e ci rispinge in avanti. Queste sono le principali caratteristiche di una suola morbida. Una suola già un pochino più strutturata, come può essere quella semirigida, tende di più a tenerci ancorati al terreno. Essendo meno morbida, quando noi andiamo a fare la nostra rullata, andiamo ad appoggiare naturalmente prima il tallone, l'avampiede, quando andiamo a spingere questo si piegherà, ma un pochino meno. Questo perché ci dà modo questo tipo di scarpa di poter affrontare già delle rocce un pochino più complicato, dove magari andiamo ad appoggiare un pochino di punta e vogliamo avere un gran sostegno. Per quanto riguarda invece le suole completamente rigide, queste innanzitutto sono pensate per essere ramponabili, quindi per andare anche sui ghiacciai e metterci un rampone, ma sono suole molto innaturali. Mi spiego, quando noi andiamo ad appoggiare il tallone e andiamo a fare tutta la nostra rullata, questo qua non andrà mai a piegarsi. E non andando mai a piegarsi, il nostro piede dentro sarà costretto. Questo alla lunga, se non siamo abituati, tende molto ad affaticare e a stancare il piede e in alcuni casi, ma proprio questi sono casi un po' estremi, far venire anche delle fasciti. A livello però di contatto col terreno, le suole semirigide, ma soprattutto le suole rigide, non hanno problemi di sentire i sassi. Quelle semirigide dipende un attimo anche dalla spessore dell'intersuola, però per quelle rigide praticamente i sassi non li sentiremo praticamente mai. Per quanto riguarda le scarpe da trekking, allora di solito queste hanno una suola che possiamo definire a metà tra la morbida e la semirigida. Non sono così morbide come le scarpe da trail, perché comunque cercano di ammortizzare un pochino e di non far sentire tanto l'impatto con le rocce sotto il nostro piede. Però non sono nemmeno così rigide come magari una suola semirigida. Queste qua, nello specifico, si flettono ancora senza tanti problemi, ci danno modo di poter fare la nostra rullata, infatti come potete vedere la scarpa si va a piegare, però non sentiamo nella parte inferiore i sassi come può essere una scarpa da trail running. Quindi ora che sappiamo cosa vuol dire una suola rigida, semirigida e morbida, vediamo di capire un attimo a chi sono più consigliate. Iniziamo dalle suone morbide, metto insieme le scarpe da trail e le scarpe da trekking, perché come vi dicevo sono molto simili, tenendo a mente che però le scarpe da trekking sono giusto un attimo più rigide, ma ci fanno sentire molto meno le rocce sotto i nostri piedi. Questo tipo di scarpa sono consigliate, a mio parere, per chi inizia. Cioè per chi inizia è andato a cercare un tipo di scarpa che non sia neanche semirigida, perché potreste avere problemi di fasciti o comunque anche di dolori nella parte bassa del piede. Io vi consiglio, più che la scarpa da trail, dove potreste sentire sotto delle rocce, di andare su scarpe da trekking, proprio nello specifico, che possono essere, come dicevamo, con la caviglia bassa, quindi scarpe basse, o anche mid. Però io vi consiglio di andare su questo tipo di scarpa per iniziare, perché sono quelle più simili alle scarpe che utilizziamo tutti i giorni e su quali siamo più abituati. Veniamo a parlare ora delle scarpe con suola semirigida. Questo tipo di scarpe io lo consiglio a un intermedio esperto. L'intermedio, perché magari nel frattempo, avendo utilizzato scarpe da trekking, un pochino più rigide rispetto alle scarpe quotidiane, se hai fatto l'abitudine, non è pronto a fare lo step successivo, perché magari poi vuole arrivare anche a quelle rigide. Per invece l'esperto, di solito gli esperti utilizzano questo tipo di scarpe per fare tanti chilometri, perché magari sono abituati a quelle rigide. È un tipo di scarpa, appunto come vi dicevo, che costringe un pochino il piede, che se non siamo abituati ci tenderà a far stancare molto il piede anche in poco tempo. È una scarpa che, come vi dicevo, prima di passare a utilizzare questo tipo di scarpe, vi consiglio di partire da quelle della trekking. Infine veniamo alle suole rigide. Beh, questi qua praticamente io li consiglio solo agli esperti. Se siete principianti, non prendetele proprio in considerazione, perché vi distruggeranno abbastanza i piedi, vi faranno veramente male alla pianta del piede, perché non sarete per nulla abituati a portarle. Sono un paio di scarponi che vi consentiranno di fare praticamente tutto. Non ve li consiglio tanto se dovete fare trekking lunghi o magari di più giorni, perché alla lunga, come dicevo, stancano. Però dal punto di vista tecnico, queste scarpe vi permettono di fare davvero di tutto. Considerato che quelle rigide sono anche ramponabili, magari non hanno l'inserto per mettere il rampone semi o automatico, ma con il rampone universale si possono ramponare. Quindi in questo caso, cioè praticamente con una scarpa così, potrete andare volendo fino anche a scalare il monte bianco. Proprio con questi scarponi ci si può fare di tutto. Però, ripeto e sottoscrivo, se siete principianti o intermedie, non prendetelo in considerazione, ne vade della vostra salute del piede. Detto ciò, anche per questa seconda parte della guida all'acquisto delle scarpe da trekking, il video è finito. Io spero di avervi aiutato nella vostra scelta delle vostre scarpe da trekking. Per quanto riguarda il proseguo della serie, io in mente sto cercando di realizzare dei video di confronto tra le varie suole, membrane, tomaie e via dicendo. E niente, spero di riuscire a portarvi il prima possibile. Detto ciò, io per il momento vi ringrazio per aver guardato anche questo video. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao!